questa è la stampante hp 6000 series in particolare questo modello è il 60 30 allora questa stampante è una fregatura come quasi tutti i prodotti dell'hp ma in particolare questa stampante è una fregatura unica quindi se non avete già fatto la stronzata di comprarla mi raccomando non compratela non compratela perché è una fregatura praticamente non riuscirete a stampare per stampare dovete avere un app uno schifo di app che anche quando riuscirete riuscite o riuscirete o se ma ci riuscirete a installare questa app questa app hp smart non riuscirete a stampare se riuscirete a stampare le stampe faranno schifo e dopo un paio di stampe se riuscite a stamparle vi ridirà questa stampante del cacchio vi ridirà di installare di nuovo l'app sempre se riuscite col pc a comunicare con la stampante perché io ho comprato addirittura anche il cavo usb e anche col cavo usb nessun computer ti riconosce la stampante è insomma fabbricata apposta io non so se fatto volontariamente questa truffa se vogliono impedire anche alle persone d'ora in avanti di stamparsi stamparsi quel che li pare fatto sta che questa stampante che dovrebbe fare anche da copiatrice da scanner non funziona non funziona i pochi attimi qui funziona funziona malissimo il portale dell'hp non vi aiuta i programmini che mette in giro non risolvono il problema infatti questa vi dà addirittura un problema inesistente di carta inceppata che ovviamente tutto programmato all'interno del suo firmware è tutto programmato affinché non funzioni perché cioè bisogna essere anche degli stupidi per costruire una stampante che non funzioni questa non funziona quindi o sono veramente degli stupidi o lo fanno apposta in ogni caso voi come risolvete risolvete non comprando più i prodotti hp non comprate mai 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 vedete non comprate mai mai prodotti hp perché sono una fregatura e non potete restituirli non potete neanche non vi ridanno i soldi questi bastardi questa è la coppia ovviamente dei politici dei politici che non tutelano il consumatore perché i politici sono dei bastardi quanto quelli dell'hp ok consiglio che vi do io e non comprate mai in vita prodotti dell'hp anche le altre marche non scherzano però in particolare se se non avete già fatto la stupidaggine di comprare questo schifezza di stampante hp se non l'avete già comprata non compratela non compratela perché non riuscirete ad usarla perché si presuppone che chi compra una stampante la colleghi al pc col cavo usb cazzo che funziona cioè me la fai funzionare la stampante nuova stampi tutto quello che ti pa e invece questa non funziona né col cavo né tramite il wifi non funziona non funziona vi dice addirittura di aggiornare qual firmare cioè il firmare il piccolo sistema operativo della stampante e voi come fate non ci riuscite non riuscite né a scaricarlo dal portale hp e tanto o meno a installarlo su di lei dato che il computer non riesce a comunicarci anche se la riconosce il computer non riesce a comunicarci con questo schifo vi faccio vedere provo a stampare ma non mi fa stampare non c'è non mi fa stampare mi dà l'errore vedete qua ho fatto un po di prove non ce la fa non ce la fa la riconosce e siete già fortunati se il pc un po la riconosce ma non riuscirete a stampare è una merda è una fregatura unica se poi provate a stampare con la sua app non ci riuscite cosa mi ecco vedete errore di stampa non ci riesce non ci riesce un bidone guarda dio vorrei spaccarla con la mazza ma proprio distruggerla bastardi dell'hp non comprate mai mai prodotti dell'hp questa è la stampante a